allora una domanda che mi viene esposta molto mi viene posta molto spesso è questa è la realtà che cambia la lingua o la lingua che cambia la realtà e io rispondo sempre che ci sono intere generazioni di italiani che sono state rovinate da gigi marzullo perché è proprio la domanda marzulliana questa in realtà mi viene da citare fare un'altra citazione come risposta questa volta dalla serie loki che non so quanti di voi hanno visto in cui loki a un certo punto risponde alla domanda se nella nella sua vita a casa ha una principessa o forse un principe e lui risponde a bit of both cioè un po di entrambi e anche la relazione fra lingua e realtà è così è un po di questo è un po di quello la realtà cambia la lingua certo ma anche la lingua cambia la realtà e anzi io più che di una relazione fra due poli ne inserirei un terzo parlerei di lingua realtà e società come tre elementi di una catena o forse ancora meglio i tre angoli di un triangolo che si danno quindi fastidio o si influiscono l'uno sull'altro e questa relazione è circolare è vicendevole è continua quello che può succedere è che un cambiamento nella realtà provoca un cambiamento nella lingua un cambiamento nella società provoca un cambiamento nella lingua ma anche che il modo in cui noi usiamo le parole abbia una risultante sugli altri due fattori cioè sul modo in cui noi vediamo la realtà e sul modo in cui è strutturata la nostra società in sostanza c'è un po sempre sotteso a ogni questione linguistica il pericolo della legittimazione del benaltrismo perché io mi sento spesso dire anche in una giornata come oggi anche ascoltando le parole di chi mi ha preceduto si si va bene i problemi sono ben altri no cioè bisogna andare sul pratico bisogna garantire non so rappresentatività bisogna garantire gli asili nido alle donne che devono fare figli bisogna 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 rompere il soffitto di cristallo ed è tutto vero ma l'azione che può avere la lingua è quella di far risuonare i cambiamenti in atto renderli più visibili e in qualche modo innescare o aiutare a innescare un circolo virtuoso cioè la realtà in cambiamento e una società in evoluzione hanno bisogno di prestare anche più attenzione alla lingua e quando questo accade cioè quando in realtà società e lingua iniziano a risuonare è come un effetto diapason cioè le questioni si possono rafforzare a vicenda invece che tappare invece che togliere visibilità occuparsi della lingua non vuol dire occuparsi di tutto il resto non vuol dire non sapere che ci sono ben altri problemi vuol dire affiancarli in questo modo diciamo prestare anche il fianco linguistico a un cambiamento che sicuramente in atto grazie al cielo finalmente e sicuramente va sostenuto almeno sostenuto dalla parte sana della società al di là appunto della delegittimazione che arriva costantemente a me che mi occupo principalmente di lingua basta guardare a un posto come l'ungheria no in teoria l'ungherese è una lingua senza generi dovrebbe essere un paradiso ad esempio per le questioni di genere ecco l'ungheria è uno dei paesi e lo dico perché la mia madre patria e quindi ne posso parlare l'ungheria in assoluto uno dei paesi più omofobi credo non solo dell'europa ma insomma di un bel pezzo del mondo omofobi xenofobi in generale chiusi eccetera eccetera la lingua da sola non basta ma la lingua può aiutare bisogna capire una questione che il rataio ascoltando esperanzo ha un po risentito nelle sue parole allora a cancellazione sociale corrisponde cancellazione linguistica e viceversa a cancellazione linguistica corrisponde cancellazione sociale di solito questo discorso si fa per le donne che sono la maggioranza della popolazione ma allarghiamo la questione perché tanto se non allarghiamo la questione stiamo lì a coltivare il nostro orticello alle minoranze marginalizzate hanno pochi spazi linguistici e questi pochi spazi linguistici sono di due tipi non hanno la possibilità di chiamarsi come vogliono e quindi di autodefinirsi c'è chi pretende di decidere conto terzi come gli altri si devono chiamare e l'altra cosa è che anche se hanno le parole per definirsi queste persone non è detto che abbiano gli spazi per definire se stessi e per far sentire la propria voce quindi abbiamo due questioni una società normocentrica che continua a nominare la diversità dall'alto della cosiddetta normalità che poi se io stringo stringo alla fine i normali non esistono come diceva basaglia da vicino nessuno è normale quindi è un po su quel concetto lì che dobbiamo lavorare e poi una cosa che la studiosa claudia bianchi chiama ingiustizia discorsiva cioè l'impossibilità di avere degli spazi dove far sentire le proprie parole quindi prima di tutto mi devo nominare e tu devi tu altra persona che non mi hai mai guardato non mi ha mai considerato non devi più considerarmi l'anomalia rispetto alla normalità sono una persona diversa ma come tutte le persone fra di loro sono diverse e la seconda è bisogna garantire degli spazi in cui questa diversità di parole possa essere agita agli occhi della società a ragione esperanza cioè le persone bipoc ma anche le persone con disabilità le persone con neurodiversità le persone non conformi per qualsiasi cosa sono sempre come dire l'esotismo che viene inserito nella pubblicità nel racconto pubblico l'esotismo che viene infilato nella trasmissione per poter dire ok noi abbiamo la diversità ma questo non è gestione della diversità questo come avrà detto fabrizio a cancora non è convivenza delle differenze è il ripetere l'idea che la nostra società sia normocentrica quindi garantire parole ma anche spazi di parola alla diversità a tutte le fattispecie umane senza fare una classifica noi viviamo in un sistema normocentrico che si basa sul divide e timpera nel senso che ogni diversità viene come dire si favorisce che pensi per sé e solo al proprio problema perché è un ottimo modo per gestirci se le varie diversità non si parlano prima questo prima quello io combatto da un po con un femminismo che per esempio rigetta le istanze di tutte le donne non biologicamente nate nate donne io sono contraria a questo perché questo non può che indebolirci se ognuno pensa solo al proprio micro cottage invece che al villaggio non si va da nessuna parte chi non ha una diversità se non vuole sentirsi definire privilegiato deve almeno capire che nella vita ha avuto meno problemi ha avuto più possibilità di essere felice quindi noi abbiamo diverse chance di felicità a seconda di come nasciamo questo vi pare giusto e quindi il consiglio quello il prendi e porta a casa diciamo così che voglio dare è duplice intanto si parte da sé non per forza puntando il dito ma e questo lo ha con tutta la società normalmente si tende a fare un'operazione che viene definita other ring cioè altrizzazione la questione non mi riguarda è troppo grossa e non ci posso fare nulla e invece sì le altre persone se ne possono occupare anche bisogna farci caso bisogna far caso a quello che noi possiamo fare in questo sistema bisogna protestare quando vediamo un discorso pubblico per esempio andato a ramengo bisogna far notare il manel bisogna far notare che si parla non lo delle persone non bianche sempre in assenza quindi cosa possiamo fare noi società bianca per le persone di altri colori ecco già questo è un problema da far esplodere il cervello fabrizio acanfora recentemente notava come nella giornata dedicata alla consapevolezza dell'autismo ci fossero molti programmi dedicati alla questione e nessun autistico invitato noi abbiamo il vizio di parlare con tutersi quindi bisogna resistere a questa tentazione rendersi conto che questo sistema dipende da ognuno di noi e noi partiamo dal nostro piccolo per cambiare la società l'allenamento possibile è ascoltare l'altro quale che sia l'altro o l'altra o l'altro dargli darle dal spazio lasciare che ogni persona parli per sé e non eccedere con quello strumento che è molto bifronte che è l'empatia non bisogna eccederne anche in empatia e non dire mai so cosa pensi so cosa provi so cosa vuoi perché non è vero da domani dobbiamo imparare a dire per favore dimmi cosa pensi dimmi cosa provi dimmi cosa vorresti la gestione della diversità parte da questo riconoscere che il nostro è solo uno dei punti di vista possibili non il punto di vista standard e sembra una cosa molto difficile da fare perché noi veniamo noi cresciamo in contesti e qui io parlo da donna bianca eterosessuale cisgender di mezza età tutto sommato benestante senza neurodiversità senza particolare particolare disabilità con un corpo relativamente conforme con un carattere relativamente conforme sono praticamente all'apice del privilegio per me è stato scioccante rendermi conto di due cose uno di essere per molti versi una privilegiata due che non sono al massimo dell'apice insomma del privilegio essendo donna e quindi anche questo mi ha fatto diventare femminista cioè io sono dovuta partire da battere la testa contro il muro del patriarcato per capire che sì ok avevo un sacco di privilegi ma c'erano comunque delle cose che mi erano precluse semplicemente in quanto donna ecco allora riflettere su le maggiori o minore fatiche che le persone fanno nelle che hanno nelle loro cose quotidiane è un ottimo esercizio laddove spesso noi persone tendiamo a essere umbilicali autocentrate dire boh io non vedo nessun tipo di problema a me non risulta il mio amico mohamed quando uso la parola n con lui mica si offende e quindi eleviamo diciamo così questa cosa a exemplum se il mio amico mohamed non si offende per la parola con la n allora io da persona bianca ho il potere di decidere che nessuna persona dalla pelle scura si offende per quella parola lì ecco questa è la tracotanza che spesso si ha questo è quello che poi si traduce in privilegi o no all'interno della società riconoscere che il nostro è solo uno dei punti di vista possibile fra tutti questi quelli che abbiamo attorno è una gran fatica io me ne rendo conto faccio un ultimo esempio poi chiudo me ne rendo conto moltissimo quando discuto con persone un po più grandi di me diciamo dell'età dei miei genitori progressiste di sinistra arcobaleno aperte tutte le istanze dell'universo mondo ma quando vedono una donna velata una donna musulmana si rigidiscono e iniziano a parlare di sottomissione mancanza di democrazia eccetera ecco io frequentando una donna musulmana kubra bim shai che una attivista femminista tedesca di origine turca che ha scritto un libro bellissimo che si chiama lingua essere ho anche sono stata costretta a rivedere col mio paradigma sono stata costretta a uscire dal mio punto di vista per capire che forse il mio vedere anche quella diversità diversità di religione in un certo modo era un'imposizione del mio punto di vista sul punto di vista altrui quindi credo che ci sia una parte della società che dovrebbe fare un passo indietro e non gridare strillare attraverso i giornali ad esempio che qui non si può più dire nulla non è vero che io sono un privilegiato come se privilegiato fosse un'offesa no privilegiato è una presa di coscienza e per finire sembra difficile ma vi ricordo una cosa la nostra umanità non emerge alla prima interazione con una qualsiasi diversità perché è lecito sbagliare è alla seconda volta cioè la prima volta non è che ci riveliamo umani o bestie ci vediamo persone che magari non hanno mai fatto caso a quel punto di vista lì a quella cosa lì e quindi non sanno come affrontarla l'altra persona ci può dire guarda chiamami in questo modo guarda se mi chiami così mi offendi per favore non mi chiamare così per favore chiamami così la seconda volta se facciamo questo sforzo no di di averci pensato e di far caso a come usiamo le parole a come chiamiamo il prossimo come parliamo della diversità è lì che viene fuori la nostra umanità e quindi è vero che è uno sforzo ma secondo me è uno sforzo da fare per andare nella direzione di una società qui cito Fabrizio di convivenza delle differenze grazie 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 grazie